Come è un futuro strategico per questa regione? Il museo e l'area archeologica, il monumento, devono diventare luoghi dove si va anche ripetutamente, si va anche per divertirsi in senso anche ameno, cioè andiamoci a prendere un caffè, dove andiamo? Al museo, ci vediamo? Al museo. Il museo deve diventare, e quindi l'area archeologica e i monumenti, devono diventare degli elementi sentiti da tutti come luoghi proprio degli itinerari quasi quotidiani oserei dire, ma comunque frequenti. Quindi dobbiamo fare di questa offerta culturale in Sicilia che è enorme, strepitosa, dobbiamo fare qualche cosa che sia appetibile. Perché sappiamo che è importante, però gli altri non lo sanno. Quindi comunicazione e adeguamento al standard internazionale di questi beni.